Nelle teorie fondamentali del mondo il tempo non c'è, ci sono avvenimenti, cose che succedono non strutturate nel tempo. Che cos'è il tempo per noi? Nel senso che noi abbiamo del fluire del tempo, che non è solo quello delle leggi di Newton, è soprattutto quello della differenza del passato e del futuro. Per noi il tempo fluisce non perché le cose cambiano una rispetto all'altra, come nella fisica fondamentale, ma perché ieri è perduto e domani è ancora aperto, ieri è fissato e noi andiamo verso domani, non andiamo verso ieri. Da dove viene questa differenza? Questa è la domanda vera del tempo secondo me. E da dove viene? Viene da questa curiosa interazione che abbiamo noi col mondo. Ma se è così, il mistero del tempo, quello che non si capisce del tempo, non va cercato nel mondo da solo, ma va cercato nel modo in cui interagiamo col mondo. L'idea che il tempo abbia a che vedere con il nostro modo di metterci in contatto col mondo, più che col mondo da solo, è un'idea antica. C'è un personaggio molto noto, legato a questa città, Sant'Agostino, che è famoso quello che ha scritto sul tempo, è che per primo ha fatto notare quanto il tempo sia legato a quello che noi percepiamo del tempo più che i fatti in sé. Sant'Agostino parla della musica e dice quando noi ascoltiamo un inno, in ogni momento stiamo ascoltando una nota, una sola. Ma una nota sola non ci parla, non ci dice nulla. Quello che ci parla è l'insieme della frase musicale dell'inno e per farlo noi dobbiamo avere insieme in ogni momento in mente in qualche modo il passato e anticipare il futuro. Per noi il tempo non è quello che avviene in un istante dato, ma è un abbracciare insieme il passato e il futuro. Il nostro cervello è disegnato per accumulare memoria e per prevedere il futuro. Il tempo per noi non è un fatto occidentale. Noi non possiamo pensare senza pensare nel tempo, non possiamo esistere senza pensare, esistere in quanto uomini, donne, esseri umani, se non come esseri nel tempo. Ma questo fluire del tempo che sentiamo così forte sulla nostra pelle, sul nostro passare, non ci è estraneo, esterno, non è un rapporto freddo che abbiamo col tempo, è un rapporto caldissimo, rovente. Il tempo ci entusiasma perché è quello che ci permette di fare le cose e ci spaventa, ci inquieta, ci angoscia perché il tempo è quello, è ciò che fa sì che tutto quello che abbiamo finisce. Questa emozione del tempo non è una nebbia che ci impedisce di vedere chiaramente cos'è il tempo. Questa emozione del tempo è il tempo. Quello che per noi è il fluire del tempo è esattamente questa emozione qui. Non siamo accecati dalle nostre emozioni rispetto al tempo. Le nostre emozioni rispetto al tempo sono il tempo. Quello che per noi è il tempo, questo fluire è questa intensità di emozione che ci spaventa perché ci mette di fronte alla nostra fine, ci mette di fronte all'impermanenza di tutte le cose, ma nello stesso tempo è questa nostra capacità di vivere nel futuro, nel passato insieme, questa apertura, è ciò che apre quello spazio che è la nostra vita interiore, la nostra vita sociale, la nostra vita di pensiero, la nostra vita di esseri umani o anche semplicemente di esseri viventi. Questo io credo sia il cuore del tempo, che non sta solo nella fisica, ma sta nel rapporto del nostro cervello con la fisica.